Musica Seconda edizione del giornale, ben trovati. Apriamo dunque con la cronaca politico-amministrativa. La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso dello Stato verso una legge varata lo scorso anno dall'Assemblea regionale siciliana che disponeva l'elezione diretta dei presidenti delle province e dunque rimane l'elezione indiretta degli organi provinciali così come accade in tutto il resto d'Italia. La Corte Costituzionale boccia l'elezione diretta dei presidenti dell'ex provincia in Sicilia ha accolto il ricorso dello Stato contro la legge regionale che aveva reintrodotto il suffraggio dei cittadini per le cariche di governo degli enti sovraccomunali. Salta dunque l'appuntamento con le urne è già fissato dal governo Musmeci ad ottobre per eleggere presidenti di liberi consorzi e città metropolitane. L'Assemblea regionale in virtù dello statuto speciale avrebbe voluto distaccare la Sicilia dal resto d'Italia dove in forza della legge del Rio gli organi dell'ex provincia sono scelti con una elezione indiretta cioè votati dai rappresentanti dei comuni. La legge che risale all'agosto dello scorso anno venne impugnata dal governo nazionale secondo il quale quelle norme si legge contrasterebbero con la disciplina armonizzante sottesa al processo di riforma avviato. Nella sentenza la Corte ha ribadito che l'intervento di riordino di province e città metropolitane abituato con la del Rio rientra nella competenza esclusiva statale in materia di legislazione elettorale. Secondo la sentenza depositata oggi i previsti meccanismi di elezione indiretta degli organi di vertice dei nuovi enti di aria vasta sono funzionali al perseguito obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali nel quadro della ridisegnata geografia istituzionale e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta. Profili di illegittimità costituzionale vengono infatti rilevati dalla consulta anche nella norma che attribuisce un'indennità a sindaci metropolitani e presidenti di libero consorzio cariche che per la del Rio devono essere gratuite. La previsione della legge nazionale spiegano i giudici costituzionali era volta a ridurre la spesa corrente e a razionalizzare i costi degli enti locali con la conseguenza che anche la Sicilia regione a statuto speciale deve allinearsi per raggiungere questo obiettivo. La decisione della consulta mi sorprende nel momento in cui la gente si allontana dalle istituzioni spiega il presidente della regione nell'omusumeci l'elezione diretta avrebbe avvicinato i cittadini alla politica tra l'altro un presidente di provincia eletto dal popolo avrebbe avuto più forza comunque andremo a votare presto anche se con questo modo irragionevole si voterà senza elettori senza cittadini l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco presidente del Lanci afferma tra l'altro un anno fa l'assemblea regionale siciliana varò un'orribile legge sulla città metropolitana che sembrava fatta apposta per non farla funzionare avevo sostenuto subito la palese illegittimità costituzionale di quella legge regionale oggi varata con un colpo di vana dall'Arsa avevo presentato e vinto il ricorso al Tardì Palermo oggi la Corte ci dà pienamente ragione con una sentenza durissima così l'ex sindaco di Catania e anche ex sindaco della città metropolitana di Catania Enzo Bianco e a proposito di città metropolitana di Catania il nuovo sindaco di Catania e dunque anche sindaco della città metropolitana Salvo Pogliese oggi ha visitato i locali di Via Nuova Luce per incontrare i dipendenti già era stato assessore provinciale da allora molte cose sono cambiate ha detto Pogliese nell'ente intermedio per volere del legislatore la provincia regionale ha cambiato il nome e ha perso alcune caratteristiche acquisendone altre mentre in queste ore la Corte Costituzionale si è pronunciata per ridisegnare il quadro istituzionale vivremo con intensità e esperienza sia da sindaco di Catania che da sindaco della città metropolitana questa nuova avventura impegno entusiasmo passione devono anche sorreggere i dipendenti nel loro lavoro quotidiano e adesso la cronaca oggi ampia pagina di cronaca che apriamo con Catania dove è indagato per presunto peculato anche l'arcivescovo di Catania Salvatore Cristina nell'ambito di una inchiesta della procura etnea sull'Oda sull'opera diocesana di assistenza Cristina in un comunicato afferma di essere totalmente estraneo alla vicenda con un comunicato di poche righe l'arci diocesi di Catania commenta la notizia dell'avviso di conclusione delle indagini notificato ieri anche all'arcivescovo di Catania Salvatore Cristina nell'ambito di una inchiesta della procura di Catania sulla Oda opera diocesana di assistenza nel comunicato si legge che l'arcivescovo di Catania dichiara di essere assolutamente strano alle ipotesi di reato che gli è stata contestata con l'avviso di conclusione delle indagini sempre Cristina esprime massimo rispetto nei confronti dell'autorità giudiziaria confidando che nelle sede competenti venga acclarata l'assoluta legittimità del proprio operato l'alto prelato è indagato per peculato in concorso con Monsignor Alfio Santorusso nell'ambito della locazione di un immobile tra l'opera diocesana di assistenza e l'opera diocesana catanese per il culto e la religione l'indagine della Guardia di Finanza ha accessi riflettori anche sull'ipotesi di appropriazione in debita aggravata in concorso a carico di Alberto Marsella nella qualità di amministratore delegato dell'opera diocesana di assistenza e di Daniela Iacobacci segretaria particolare della fondazione circa la destinazione di alcune rette mensili che sarebbero state versate dai pazienti ad una casa per anziani dell'opera diocesana di assistenza nel mirino degli investigatori inoltre un contributo per rimborso spese nonché l'utilizzo di carte di credito sui condi ODA per circa 40.000 euro Marsella è stato già rimosso dalla funzione proprio da Cristina a seguito di una ispezione della commissione pontificia che nel 2016 rilevò delle anomalie nel 2017 ai vertici dell'ODA fu inserito un commissario Adolfo Landi ancora al timone della struttura che avrebbe esporto denuncia sulle ipotesi di irregolarità dell'ODA dal punto di vista giudiziario gli indagati avranno 20 giorni di tempo per visionare gli atti contestati e presentare prove a discolpa anche attraverso deposizioni volontarie passaggi significativi questi che precederanno alla richiesta della procura di Catania al giudice per le indagini preliminari di archiviazione o di rinvio a giudizio Come pensa di istruire la sua strategia difensiva? Se in questo momento non si può dare un parere di come istruire la strategia in quanto non siamo a conoscenza degli atti e poi successivamente lo vedremo C'è un'accusa di peculato nei confronti di Monsignor Cristina? Ma al momento nemmeno questo sappiamo come ribadisco nuovamente quando avremo gli atti ne abbiamo più contezza e possiamo verificare veramente del reato di questa viene accusato Con lei prima ancora di aver visto appunto e aver studiato le carte si è fatto un'idea di questa situazione? Ma l'idea di questa situazione che cosa posso dire? Che noi qua stiamo parlando di Sua Eccellenza il Capo della Chiesa che ha rivolto sempre il proprio operato alle persone più debili alle persone disabili nonché agli ultimi quindi io posso dire che c'è l'assoluta estranità dei fatti del nostro Vescovo Catanese Ha avuto modo di sentirlo? No in questo momento è fuori quindi non ho avuto modo Andiamo adesso a Vittoria in provincia di Ragusa dove uno spacciatore è stato colto sul fatto da un cittadino che ha segnalato in questo caso l'attività di spaccio alla polizia attraverso una nuova app per i telefonini l'app si chiama YouPol e permette in maniera del tutto anonima appunto di colloquiare con le forze dell'ordine Funziona perfettamente la nuova app per smartphone YouPol contro i fatti criminosi è a portata di click per forze dell'ordine cittadini realizzata a inizio anno dalla polizia di Stato è stata proprio l'ormai famosa applicazione ad incastrare l'algerino che è Reddine Buecicia di 42 anni colto in fragranza di reato dagli uomini della squadra mobile e il commissariato di Vittoria mentre spacciava dell'ascis in pieno centro a fare il ricorso YouPol era stato un cittadino che in modo anonimo aveva inviato alla sala operativa della questura di Ragusa una foto dello spacciatore e dei luoghi dove l'algerino nascondeva abitualmente la droga nella segnalazione il vittoriese descriveva anche la modalità con cui Buecicia piazzava e vendeva poi la droga ai suoi clienti per evitare di custodire lo stupefacente addosso in vista di eventuali perquisizioni come abitudine tra gli spacciatori di piazza l'algerino era solito nascondere l'ascis conservato in un sacchetto su un albero e in diversi punti di piazza Manini a Vittoria da tutti conosciuta come piazza Siena le operazioni investigative degli agenti sono scattate in sinergia con il cittadino che aveva inviato tramite l'app anche una foto dello spacciatore rendendolo facilmente identificabile agli uomini della squadra mobile gli investigatori si sono così appostati nascondendosi attorno alla piazza dove l'uomo con precedenti per traffico di droga e altri reati aveva nascosto alcuni sacchetti di ascisce su un albero in diversi vasi di fiori e nello stipite di una porta per un totale di ben 34 dosi pari al peso di circa 100 grammi dopo aver preparato la merce da vendere lo spacciatore attendeva gli acquirenti durante l'appostamento gli investigatori hanno assistito così alla scena dello spaccio un ragazzo raggiunge l'algerino in piazza e dopo una breve conversazione durata qualche secondo riceve una dose in cambio di denaro una banconota da 20 euro per due stecchette di hashish lo spacciatore colto in flagranza di reato è stato subito bloccato dagli agenti di polizia che dopo le procedure di identificazione lo hanno condotto in carcere a disposizione della procura della Repubblica di ragusa a Palermo una organizzazione si era specializzata nel reperire permessi di soggiorno per extracomunitari che non avevano pro titolo per poter ottenere gli stessi permessi commercialisti titolari di centri di assistenza fiscale c'era un gruppo specializzato nel reperire permessi di soggiorno ad extracomunitari sulla base di false certificazioni a scoprirlo la polizia di Palermo che ha eseguito dieci misure cautelari di queste nove arresti ai domiciliari ed un divieto di dimora nel capoluogo palermitano dichiarazioni fiscali per redditi mai percepiti e contratti di assunzione mai firmati erano la base solida su cui poggiavano le richieste sarebbero numerosissime quelle inoltrate soltanto nell'ultimo triennio fatte all'ufficio immigrazione della questura di Palermo per il rinnovo l'ottenimento del permesso di soggiorno di soggetti extracomunitari tra i destinatari delle misure ci sono nomi noti in città tra cui il riferimento per la comunità tamil attivo nel panorama politico locale quale membro della consulta delle culture organismo in seno all'ente comunale operavano tra Palermo e Trapani gli immigrati provenienti anche da regioni differenti in alcuni casi effettivamente dimoranti in territorio estero attraverso un passaparola all'interno delle singole etnie giungevano a Palermo ed esternavano ai professionisti contabili la loro necessità di avere una dichiarazione dei redditi ad hoc per il raggiungimento della soglia minima di reddito prevista per proseguire il loro soggiorno in Italia cosa devi fare cosa devi fare il nuovo permesso no devo richiedere l'idea il permesso poi la cittadinanza quindi vogliono 18 mila euro perché siamo 5 come componenti della famiglia ma io ce l'ho tutte c'è moglie e 4 figlie si si c'hai tutto inserito la moglie ma più tardi l'ha preparato non so che che deve venire a prendersi ma devo scusa un attimo ma chiedo in credito o ti faccio pagare l'iva no 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 e fammi chiudi in credito che è meglio te lo compaglio io a 0-0 è bene ok in alcuni casi il reddito buono veniva richiesto telefonicamente ed è stato intercettato il fenomeno aveva assunto una tale dimensione da allarmare i poliziotti dell'ufficio e migrazione che allertata la squadra mobile in piena sinergia con la guardia di finanza hanno dato avvio a controlli approfonditi sulle dichiarazioni dei redditi trasmesse determinando la revoca di gran parte delle richieste avanzate attraverso la fitta rete di professionisti e di addetti ai lavori che dietro il pagamento di compensi che raggiungevano anche i 1000 euro offrivano tutta una gamma di servizi finalizzati essenzialmente all'ottenimento dei relativi permessi il metodo consisteva in alcuni casi nell'attivazione di partite IVA per ditte individuali per soggetti extracomunitari per la maggior parte censiti come venditori ambulanti in alcuni casi venivano fatti risultare fittiziamente assunti come collaboratori domestici dagli stessi professionisti o da soggetti compiacenti il fenomeno criminale accertato già dal 2015 va riferito a periodi anche pregressi annasio nel messinese sequestro beni a carico di un noto imprenditore nel settore della macellazione nella commercializzazione del pellame ammonta circa 9 milioni di euro il valore dei beni ritenuti proventi di usura sequestrati dalla DIA di Messina in collaborazione con il centro operativo di Catania annunzio Ruggeri l'imprenditore residente a Naso in provincia di Messina operante nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame le indagini e il successivo provvedimento sono scattati in seguito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Santo Lenzo legato ai sudalizi mafiosi nebroidei che ha raccontato dei collegamenti di Ruggeri con alcuni vertici della criminalità organizzata tortoriciana tra cui lo stesso Lenzo Cesare Scavo Bontempo e Carmelo Armenio secondo alcune dichiarazioni del pentito risalenti al 2002 l'imprenditore nel 99 chiese tramite Armenio che fossero incendiati mattatoi di Sinagra Barcellona Pozzo di Gotto e Giamoro impegnandosi contemporaneamente a versare 50 milioni delle vecchie lire all'organizzazione mafiosa che lo avrebbe favorito l'intento criminoso non giunse però a compimento per l'opposizione dei rappresentanti della criminalità organizzata barcellonese la lucrosa e continuativa attività usuraia del Ruggeri è stata rilevata nel 2005 con una sentenza di condanna della Corte di Appello di Messina e divenuta irrevocabile nel 2009 tra gli anni 98 e 2000 l'imprenditore aveva concesso alcuni prestiti risultati poi di natura usuraia a un dipendente di banca che aveva generato all'istituto di credito dove lavorava un dissesto economico per circa 76 milioni del vecchio conio ma il curriculum criminale del Ruggeri non si conclude qui numerosi pregiudizi nei suoi confronti nel 2002 unitamente ad altri 20 soggetti era stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Melito Portosalvo in provincia di Reggio Calabria per aver utilizzato fatture inerenti operazioni inesistenti emesse da una società operante nel commercio all'ingrosso di cuoio e pelli nel 2005 invece era stato denunciato dal nucleo antifrodi del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari di Roma in ordine ai reati di falso ideologico aggravato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e rinviato poi a giudizio quale legale rappresentante di una società oggi sottoposta a sequestro nel 2012 inoltre a seguito di attività di indagine dei Carabinieri di Sant'Agata di Militello era stato rinviato a giudizio per il reato di usura continuata in danno di un imprenditore agrumicolo a cui aveva applicato tassi di interesse del 10% mensili su somme prestate illecitamente infine nel 2016 era stato rinviato a giudizio nella procura di patti per abusivismo finanziario a seguito di un'attività di indagine della Guardia di Finanza di Capodorlando che aveva rivelato l'illecita concessione di mutui con numerose ed azioni tra il 2005 e il 2010 di somme di denaro pari a 794.225 euro complessivi l'attività di indagine ha inoltre permesso di accertare che il Ruggeri pur non avendo dichiarato redditi ufficiali sufficienti e capienti era riuscito tramite l'illecita attività usuraia ad incrementare il suo patrimonio personale ed imprenditoriale utilizzando lo stratagemma di intestarlo a congiunti parenti di fatto suoi fidati prestanome nel corso del sequestro avvenuto questa mattina sono stati apposti i sigilli a due imprese comprensive di capitale sociale e compendio aziendale ad una quota pari al 20% del fondo consortile di un consorzio a 20 unità immobiliari tra fabbricati e terreni a 23 mezzi personali ed aziendali e infine a vari rapporti finanziari intestati anche ad altri soggetti individuati veniamo alla politica economica regionale il bilancio della regione siciliana dovrà essere sottoposto ad una apposita misura correttiva si legge nella relazione del giudice della Corte dei Conti per la Sicilia Francesco Albo sul rendiconto generale per l'esercizio 2017 Albo ha segnalato nel suo intervento una serie di criticità nel documento contabile regionale e ha parlato di un peggioramento del risultato di amministrazione rispetto all'anno 2016 la relazione descrive anche il peggioramento della situazione contabile degli enti locali siciliani questo peggioramento finisce secondo la Corte dei Conti per pregiudicare il mantenimento degli equilibri di bilancio sono numerosi i punti critici rilevati tra questi il lacunoso sistema di controllo interno il rischio di consistenti perdite di risorse finanziarie per i ritardi accumulati nella gestione dei fondi comunitari la Corte dei Conti bacchetta poi il governo Musumeci anche sugli investimenti sottolineando come le dinamiche di lungo termine della spesa dimostrano un sempre più marcato orientamento alla gestione corrente un campanello d'allarme della Corte dei Conti suona inoltre per le società partecipate della Regione e i loro bilanci soprattutto per la mancanza di informazioni sul conto economico delle stesse società partecipate il Presidente della Regione Musumeci ha firmato ieri il decreto per l'assegnazione delle somme ai disabili e il senatore del PD Farone ha così sospeso il digiuno che portava avanti ormai da nove giorni dice oggi Farone durante una diretta Facebook alcuni obiettivi li abbiamo centrati altri restano ancora un'incognita per questo che non molleremo faremo la staffetta con i tanti che in quest'ora hanno aderito allo sciopero della fame a rotazione perché la partita non è per nulla chiusa ieri ha aggiunto Farone sono stati sbloccati 49 milioni per gli assegni di cura sino a luglio nove giorni fa quando abbiamo iniziato lo sciopero della fame tantissimi ancora non avevano neppure ricevuto i soldi di settembre 2017 inoltre prosegue ancora Farone l'assessore regionale Razz ha detto che nei contratti dei nuovi dirigenti generali delle ASP ci sarà una norma che imporrà la tempestività dell'erogazione delle somme ai disabili pena la decadenza dei direttori e questa è sicuramente una nota positiva veniamo adesso al mercato immobiliare oggi si è tenuta a Catania una conferenza stampa assai interessante viene chiesta la cedolare secca anche per gli immobili non residenziali questo secondo le associazioni di categoria dovrebbe far sbloccare il mercato ed equiparare il nostro paese ai restanti paesi europei dove il mercato immobiliare è già ben florido a differenza appunto che in Italia mentre nel resto d'Europa il mercato immobiliare è in forte ripresa tornando così a rappresentare un investimento sicuro soprattutto in ambito familiare e segnando uno spartiacque tra l'era della crisi e la fase del nuovo sviluppo in Italia continua a segnare lo stallo anzi la decrescita contrazione che gli esperti del settore motivano quasi esclusivamente con la forte tassazione a cui i beni immobili sono sottoposti nel bel paese dall'avvento del governo Monti in poi per gli immobiliaristi la scelta del mattone anche dell'uso consapevole del patrimonio già edificato ha segnato in molte parti del vecchio continente l'innalzamento del PIL Spagna compresa paese che aveva subito come l'Italia se non più dell'Italia la crisi economica mercato immobiliare che soprattutto al nord Europa è servito per contrastare la volubilità del mercato finanziario che invece determina le politiche nazionali economiche italiane spesso incerte per risollevare il mercato immobiliare è necessario introdurre anche per il patrimonio non residenziale la cedolare secca al fine di favorire la ripresa economica e ripopolare i centri storici che via via si stanno sempre più svuotando questi temi di una conferenza tenuta oggi a Catania da alcuni esponenti del mondo delle imprese immobiliari e tra questi il presidente nazionale di Confassociazione Immobiliare Paolo Righi c'è bisogno di far ritornare l'investimento immobiliare a una redditività che permetta gli investimenti dal 2011 in poi la tassazione è aumentata con il governo Monti abbiamo avuto un aumento delle tassi di oltre il 300% e con l'introduzione invece della cedolare secca abbiamo visto sulla parte dell'immobiliare lo stesso Ministero delle Finanze ha fatto vedere che c'è stata un'emersione del nero molto molto importante equivalente a circa 17 miliardi pensiamo quindi che una tassazione applicata con una tassa piatta permetterà ai proprietari di ritornare ad avere una certa redditività di poter abbassare gli affitti e quindi permettere ai commercianti di sopravvivere in questo periodo veramente difficile e con un beneficio sostanziale oggi i centri storici delle nostre città si stanno svuotando a causa dei centri commerciali che oramai hanno svuotato la vita vera del cuore pulsante delle nostre città il piccolo commercio aiuta la città a vivere è un aiuto anche contro la micro criminalità perché le città deserte sono sempre pericolose quindi ridare fiato alla piccola proprietà immobiliare anche per i negozi commerciali avere una tassazione più bassa fitti che scendono ridarà slancio a questo settore Alla conferenza hanno preso parte anche il CEO di Ausilia Finance Samueve Lupidi il presidente regionale e provinciale FIAP Carmelo Mazzeppi e Maria Pia Barbagallo il presidente dell'osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare Enzo Gipino Dai dati che abbiamo rilevato sui flussi nei vari settori e per macro aree delle compravendite e dei valori di queste compravendite ci siamo resi conto in questo primo trimestre del 2018 che è assolutamente necessario estendere l'accedolare secca dal comparto abitativo fino al comparto non residenziale questo determinerà sicuramente un abbassamento dei costi delle locazioni e consentirà a tanti conduttori di poter accedere ai immobili e quindi far sì che le sale cinesche vengano alzate piuttosto che vengano abbassate dopo la norma sui terrazzamenti adesso all'orizzonte per il limone etneo anche la possibilità di intercettare il riconoscimento del marchio IGP importante sicuramente per una eccellenza locale agrumicola tutta acese un primo significativo passo verso il riconoscimento del limone dell'Etnea del marchio IGP identificazione geografica protetta rilasciato dal ministero delle politiche agricole con l'approvazione della comunità europea in altre parole una certificazione di eccellenza internazionale per il limone tipico etneo una speranza di rilancio per i produttori locali un deciso balzo in avanti per la commercializzazione limonicola un tempo prima voce in capitolo dell'economia delle ace e dell'intero versante ionico il prossimo passo sarà la riunione pubblica di accertamento prevista dal regolamento dell'Unione Europea che avrà luogo il prossimo 11 settembre al palazzo di città di Ecireale alla presenza dei comuni coinvolti 17 e quelli della dorsale orientale che vanno da San Gregorio di Catania a Castiglione di Sicilia passando per Cala Tabiano un affronte unico a difesa di un prodotto agrumicolo le cui proprietà organolettiche sono state ampiamente certificate da laboratori nazionali e internazionali eppure continuiamo ad importare prodotti provenienti dall'Argentina e dal Cile in nome per conto di una globalizzazione incomprensibile per i consumatori oltre a modo penalizzante per i nostri produttori il disciplinare è pronto da tempo con tanto di caratteristiche dei frutti e dei parametri qualitativi dal femminello al monachello legate alle aree geografiche di produzione indicizzate dal consorzio di produttori decisi ad ottenere il giusto riconoscimento Agostino Penisi produttore e appassionato promotore dell'iniziativa nonché portavoce della cooperativa IGP Limone dell'Etna identificare nel mondo la provenienza del Limone dell'areale che va da Acicastello a Calatabiano dalla costa ionica alle colline dell'Etna con questo marchio sarà riconoscibile nel mondo il nostro prodotto è un passaggio importantissimo perché il secondo step del procedimento dopo quello regionale che è avvenuto l'anno scorso per merito dell'onorevole Cracolici che ha capito l'importanza di questa cosa passa ora al ministero e l'11 settembre avremo la conferenza pubblica al municipio di Acirale perché il disciplinare cioè l'oggetto della materia viene discusso pubblicamente davanti a tutti Dunque Limone dell'Etna come produzione di eccellenza di questa parte del territorio siciliano? Limone dell'Etna è una peculiarità incredibile perché sull'Etna si produce la seconda fioritura che è quella del verdello cioè noi lasciamo il limone senza acqua fino a fine luglio poi gli diamo l'acqua lo facciamo rifiorire e facciamo il verdello che è un frutto particolarissimo ed è la nostra punta di diamante il limone dell'Etna è poi un limone prodotto qui quindi ha delle differenze sostanziali rispetto al limone che viene da Argentina Cile Sud Africa cioè non ha bisogno di aiuti chimici per arrivare qui e quindi è un limone assolutamente sano e salutistico Si può parlare di rilancio di un settore che era un po' in affanno negli ultimi anni? C'è un rilancio non è dovuto solo alla nostra azione è dovuta a una sequenza di fatti che stanno creando attorno all'agrumicoltura siciliana un'importanza particolare soprattutto quella salutistica ma anche quella nutritiva quella vitaminica abbiamo associazioni importanti come Coca Cola Foundation che sta spendendo molto nella ricerca abbiamo un risveglio generale che mi permetta di inquadrare anche nel risveglio del termalismo perché sta avendo passi avanti so che la Perla Ionica sta ripartendo ecco dopo un decennio buio credo che si cominci a pensare a un decennio di rilancio del territorio lei è ottimista moltissimo e ne sono certo anzi rimaniamo in territorio accese ma da Cireal si spostiamo ad Aci Sant'Antonio dove questa mattina si è tenuta la prima riunione del Consiglio Comunale con l'elezione del Presidente per la prima volta una donna Lucia Rapisarda medico Sant'Antonese moglie e madre di tre figli e il nuovo Presidente del Consiglio Comunale di Aci Sant'Antonio eletta con 12 voti a favore 3 le preferenze espresse per la consigliera Riolo una scheda nulla e il solito buon tempone che ha segnato il nome di Luigi Di Maio ed è la prima volta nella storia politica del Comune Ateneo che una donna occupa lo scranno più prestigioso del Parlamentino Comunale nella riunione di insedimento del Civico Consesso sintesi della maggioranza a sostegno del rieletto Sindaco Santo Caruso esce in prima battuta il nome della professionista che si è insediata tra gli applausi dei presenti nella passata legislatura siamo state molte donne in Consiglio Comunale per la prima volta penso che abbiamo lasciato un buon segno siamo cresciute politicamente per tutte noi era la prima esperienza questo ci ha portato questa volta ad assumere dei ruoli differenti quindi la mia collega Orfile è diventata assessore io sono stata oggi eletta Presidente del Consiglio spero e mi auguro di poter lavorare molto serenamente in questi cinque anni è mia abitudine mediare dialogare essere molto serena nei confronti di tutte le parti che devono portare a termine un compito e quindi spero di riuscire in questo compito arduo che mi è stato affidato questa mattina la riunione consigliare è proseguita con l'elezione di Giuseppe Leonardi a Vice Presidente del Consiglio espressione della maggioranza bocciata alla proposta dell'opposizione che ne rivendicava il ruolo sulla scorta di una consolidata prassi istituzionale frutto della volontà della maggioranza la maggioranza ha voluto esprimere questa potenzialità abbiamo dato forza ad una donna la prima donna che sarà Presidente del Consiglio Comunale e sono convinto che la consigliera Rapisarda darà le giuste risposte a chi e soprattutto ai cittadini che hanno bisogno di un'azione politica lineare trasparente e nell'interesse di tutti le previsioni meteo per la giornata di domani sabato 21 luglio il cielo sarà sereno su tutta l'isola i venti deboli i mari calmi vediamo adesso le temperature a Catania la minima e la massima rispettivamente di 22 38 gradi 40 invece quelli che si registreranno a Siracusa di Controtrapani sarà la città più fresca con soli si fa per dire 32 gradi che si fa per dire che si fa per dire